bonus cultura denunciato un commerciante coppia arrestata dalla polizia per diversi furti incidente in via due fontane intervento dei carabinieri un giovane nei guai incidente a mossomeli un ferito aggredisce lo zio arrestato e rimesso in libertà furto al negozio di canicattì danni per 20.000 euro omicidio dopo una lite tra vicini procura ricorre in appello edilizia scolastica riunione in prefettura san cataldese sesta sconfitta in sette gare ben trovati bonus cultura denunciato un commerciante e sanzioni per 360 beneficiari la guardia di finanza di caltanissetta grazie ad una segnalazione elaborata dal nucleo speciale spesa pubblica e repressioni e frodi comunitarie ha da poco concluso un articolata attività ispettiva nei confronti del titolare di un'attività commerciale di san cataldo il quale in violazione della normativa che disciplina il bonus cultura avrebbe comunicato falsamente al ministero la rivendita di libri biglietti di spettacoli teatrali e ingresso al cinema cedendo invece beni da lui commercializzati come cellulari videogiochi e computer non contemplati nelle categorie ammessa al beneficio si sarebbe verificato che commercianti meno virtuosi si siano accreditati al sistema della 18 app la piattaforma ufficiale utilizzata per l'erogazione del bonus per rivendere prodotti diversi da quelli indicati dalla norma traendone un illecito beneficio a danno della spesa pubblica gli approfondimenti svolti hanno portato quindi alla segnalazione del responsabile alla locale autorità giudiziaria per indebita percezione di erogazioni a danno dello stato sono state altresì elevate sanzioni amministrative per illecito utilizzo del bonus cultura nei confronti di 360 fruitori tutti residenti nella provincia nissena e in quelle limitrofe per un ammontare complessivo di oltre 160 mila euro al termine delle attività svolte come riporta la notte della guardia di finanza il ministero della cultura intervenuto con l'immediata sospensione dell'accreditamento del profilo virtuale dell'esercente dal sistema 18 app e avviato le procedure di recupero delle somme indebitamente percepite ci spostiamo a gela una coppia arrestata dalla polizia di stato per diversi furti 12 gli episodi contestati l'uomo in carcere la donna gli arresti domiciliari arrestata una coppia a gela dalla polizia di stato si tratta di un 44 anni di una 31 anni indagati per 12 furti in altrettanti esercizi commerciali del gelese gli inquirenti contestano i reati di furto aggravato in concorso compiuti con lo stesso metodo utilizzando in modo indebito carte di credito rubate e non solo la storia non avrebbe nulla da invidiare ad una sceneggiatura di serie televisiva i furti sarebbero stati messi a segno tra giugno e agosto l'uomo e la donna si sarebbero introdotti all'interno degli esercizi commerciali dove poi avrebbero puntato prima i registri di cassa poi il computer e altro materiale l'arresto effettuato dai poliziotti del commissariato di pubblica sicurezza di gela da esecuzione all'ordinanza applicativa di misura cautelare emessa dal giudice delle indagini preliminari del tribunale gelese su richiesta della procura della repubblica locale il 44enne dopo l'arresto è stato condotto al carcere di gela e la donna agli arresti domiciliari attualmente a disposizione dell'autorità giudiziaria i reati contestati sono quindi concorso in furto aggravato in debito utilizzo di carte di credito ricettazione e porto di strumenti atti ad aprire a forzare serrature incidente in via due fontane intervento dei carabinieri un giovane nei guai un ragazzo di 17 anni di caltanissetta è finito nei guai a causa di un incidente l'episodio si è verificato la notte del 16 ottobre in via due fontane quando il giovane a bordo di un quadriciclo intestato alla madre sarebbe finito contro una fiat punto guidata dal ragazzo nisseno di 21 anni subito sono intervenuti sanitari del 118 che hanno trasportato il 17enne al pronto soccorso dell'ospedale santelia sottoposto ad accertamenti tossicologici sarebbe risultato positivo a sostanze stupefacenti alcoliche riportando lesioni guaribili in dieci giorni i carabinieri hanno quindi ritirato il patentino del giovane e sottoposto a sequestro il mezzo che sarebbe risultato privo di copertura assicurativa ci spostiamo adesso a mussomeli un incidente stradale in una via del centro e un ferito è stato un violento scontro quello che si è verificato ieri pomeriggio nel centro di mussomeli in provincia di caltanissetta il sinistro è avvenuto nella centralissima via madonna di fatima dove per causa in corso di accertamento una vettura si è scontrata con il furgone di un corriere ad avere la peggio è stato il conducente dell'auto tanto che sul posto è arrivata l'ambulanza del 118 che ha trasportato l'uomo in ospedale sono stati necessari punti per sotturare una ferita e accertamenti radiologici per le contusioni riportate per gli altri due protagonisti a bordo dei mezzi coinvolti fortunatamente non ci sarebbero lesioni significative i mezzi infine avrebbero riportato danni ingenti soprattutto l'auto vettura a sommatino un ventenne è stato arrestato poi rimesso in libertà per avere aggredito lo zio un ragazzo di 23 anni di sommatino è stato arrestato dai carabinieri per aver colpito con calci e pugni lo zio il giovane avrebbe aggredito il parente a più riprese e non si sarebbe fermato neanche con l'arrivo dei militari giunti sul posto per tentare di placare la situazione anzi avrebbe tentato di assalire lo zio con una spranga così è scattato l'arresto a carico del giovane che ora dovrà rispondere del reato di lesioni personali il fatto risale a lunedì sera quando lo zio un uomo di 53 anni ha chiamato i carabinieri di sommatino per chiedere aiuto una volta giunti sul posto i militari avrebbero cercato di capire il motivo della lite quando improvvisamente il giovane si sarebbe scagliato con calci e pugni contro lo zio il 23enne avrebbe continuato a infierire contro quest'ultimo nonostante fosse finito a terra a quel punto i carabinieri lo hanno bloccato e tratto in arresto lo zio intanto è stato curato e dimesso dal pronto soccorso di canicattì con una prognosi di sei giorni durante il processo per direttissime infine il giudice nicoletta frasca ha convalidato l'arresto e rimesso in libertà il giovane che è stato sottoposto alla misura di presentazione alla polizia giudiziaria come richiesto dal pm dario bonanno furto in un negozio di canicattì danni per 20 mila euro acquisite dai carabinieri le immagini dell'impianto di videosorveglianza è quantificato in 20 mila euro il danno provocato al negozio di abbigliamento calabro nel centro di canicattì dove alle 4 e 20 circa di ieri alcuni malviventi utilizzando comarietto una fiat panda hanno sfondato la vetrata dell'attività commerciale nonostante l'allarme si sia attivato tempestivamente i criminali sono riusciti a rubare e portare via alcuni capi di abbigliamento griffato a bordo di una fiat panda che risultata essere stata rubata ad una canicattinese sono partite subito le indagini da parte dei carabinieri della compagnia di canicattì coordinati dalla procura della repubblica di agrigento per cercare di identificare quanto prima i ladri entrati in azione intanto il brutto episodio ha turbato l'intera comunità della cittadina agrigentina i militari dell'arma hanno comunque già acquisito le registrazioni video degli impianti di videosorveglianza apposta presidio del negozio ma anche di altre attività commerciali nelle vicinanze la famiglia e tutto il gruppo calabro nel frattempo ha ringraziato tutti coloro che stanno dimostrando grande affetto e solidarietà a seguito dello spiacevole avvenimento un ulteriore ringraziamento infine è stato rivolto alle forze dell'ordine impegnata a fare luce sull'accaduto sempre a canicattì un omicidio dopo una lite tra vicini la procura di agrigento ricorre in appello lo scorso giugno venne condannato per l'accusa di omicidio volontario commesso per futili motivi a 22 anni di carcere nella sentenza i giudici della corte d'assiste di agrigento hanno escluso le aggravanti della premeditazione della minorata difesa della vittima e concesso quindi le attenuanti generiche per questa ragione la procura della repubblica di agrigento ha fatto ricorso in appello per la sentenza a carico di un 71enne di canicattì l'uomo ucciso un agricoltore che aveva un appezzamento di terra vicino al suo secondo la procura però l'azione omicidiaria fu premeditata l'uomo re confesso del delitto avrebbe sparato al vicino era il 27 settembre del 2019 due colpi di pistola al volto dopo una serie di litigi dovuta al diritto di passaggio su una strada interpoderale che portava i loro terreni l'omicidio avvenne nel terreno della vittima canicattì edilizia scolastica una riunione della conferenza provinciale permanente in prefettura si è tenuta nella sala della protezione civile della prefettura di caltanissetta una riunione della conferenza provinciale permanente per effettuare un primo monitoraggio sulla situazione dell'edilizia scolastica nel territorio provinciale si legge in una nota si vuole avviare un progetto mirato a ricercare soluzioni condivise per le problematiche connesse al tema che più in generale attiene alla questione della tutela dell'incolumità e della sicurezza della popolazione scolastica all'incontro presieduto dal prefetto chiara armenia hanno partecipato il deputato regionale giuseppe catania diversi rappresentanti di comuni centri in cui hanno sede istituti di scuola secondaria superiore il dirigente dell'ufficio scolastico provinciale filippo ciancio e dirigenti del libero consorzio comunale su input del prefetto sono state tracciate le linee guida per semplificare le procedure da attivare per la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria la strategia operativa emersa durante l'incontro è stata accolta con grande soddisfazione dai partecipanti al termine della riunione il prefetto considerata la complessità e l'ampiezza della tematica ha aggiornato i lavori della conferenza provinciale permanente a nuovi e successivi incontri con cadenza mensile per approntare ulteriori soluzioni adeguate a fronteggiare le variegate criticità che attengono al delicato tema dell'edilizia scolastica l'associazione ligabue annuncia a breve un incontro con i rappresentanti dell'asp per discutere di diversi temi è l'associazione ligabue di calta nissetta che da 30 anni è impegnata nella tutela dei diritti delle persone con disagio psichico e delle loro famiglie proprio l'associazione chiede un confronto agli attuali vertici dell'azienda sanitaria locale e tramite una nota vuole sapere se ci sia la disponibilità al confronto da parte dell'ente sulle prossime iniziative sui locali idonee a svolgere le attività associative sulle strategie per fronteggiare il disagio sul budget di salute e per sapere se sia stato avviato l'iter per la realizzazione dei progetti terapeutici individualizzati di prese in carico comunitaria così come disposto dall'articolo 24 della legge regionale 16 ottobre 2019 numero 17 contattato il presidente dell'associazione ci ha comunicato che a giorni ci sarà l'incontro richiesto con i rappresentanti dell'asp sulla vicenda è calta acqua che fa sapere che a seguito del miglioramento conseguito grazie alla campagna di ricerca perdite delle reti idriche nel territorio di niscemi la distribuzione sarà effettuata a giorni alterni il 20 ottobre a partire dal pomeriggio nella zona b quindi tripoli trappeto centro storico cimitero basso carbone maugeri venerdì 21 ottobre zona a mattina spasimo baracuda spasimo alto gramsci centro santi spasimo forestale ed il pomeriggio verrà distribuita a macello basso cimitero alto macello alto infine sabato 22 ottobre sarà distribuita l'acqua nella zona b la mattina nei quartieri cicero canale p3 poggio placenti il pomeriggio a tripoli trappeto centro storico cimitero basso carbone maugeri parliamo adesso di politica torna la primavera san cataldese diffuso un documento con sei firmatari in un lungo comunicato firmato da gianfranco scarciotta marianna guttilla maurizio lombardo cataldo fascianella franco guttilla e salvatore citrano per primavera san cataldese viene spiegata la loro scelta di lasciare il partito democratico ci abbiamo ragionato ci abbiamo riflettuto e abbiamo deciso e così infatti che inizia il documento in cui vengono elencate le ragioni che li hanno portati a tale decisione quanto mai sofferta e rinviata nel tempo così come loro stessi raccontano hanno atteso fino alle elezioni dello scorso 25 settembre fanno riferimento alla situazione nazionale non ne condividiamo l'attuale collocazione nel panorama politico del paese precisano infatti ma soprattutto a distanza di quasi un anno parlano di una questione locale anche all'interno del circolo pd san cataldese si è giunti a partire dall'elezione del presidente del consiglio comunale ad una frattura insanabile esclamano ritenevamo e continuiamo a ritenere che l'elezione di bonsignora presidente del consiglio peraltro e per inciso consigliere eletto da indipendente tra le fira del pd rispondesse all'esigenza di non compromettere gli equilibri di rappresentanza nell'istituzione comunale sottolineano raggiunti tra le forze dell'originaria coalizione e a quelli successivamente intervenuti a seguito dell'apparentamento raggiunto senz'altro a pretendere con altra forza civica e non di secondario rilievo rispondesse ancora all'opportunità di offrire dignità politica aggiungono all'unica componente della compagine di maggioranza seppure minoritaria ma storicamente rappresentativa della sinistra san cataldese altrimenti priva di qualsivoglia rappresentanza istituzionale e ancora parlano di divergenza di visioni fino ad arrivare alla decisione finale continueremo pertanto ad offrire il nostro leale di incondizionato sostegno al nostro sindaco e alla sua amministrazione concludono attraverso lo sperimentato e autorevole contributo del gruppo consigliare centrosinistra san cataldese al quale da oggi fa riferimento la vice sindaco marianna guttilla pubblicata la graduatoria dei 176 istruttori amministrativo contabili per i centri per l'impiego della sicilia scatta quindi adesso la fase dell'assunzione a tempo pieno indeterminato con profilo c per questi 176 istruttori amministrativo contabili fra i complessivi 1622 idonei alla prova selettiva adesso sarà il momento dell'assunzione dei vincitori che si provvederà attraverso la sottoscrizione di un contratto individuale di lavoro a tempo pieno indeterminato e di categoria c manca all'appello solo la graduatoria dei 311 istruttori operatori del mercato del lavoro per i centri per l'impiego per chiudere il quadro delle graduatorie definitive approvate pubblicate a cura del dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale completate anche le graduatorie dei 264 funzionari di categoria di vincitori del concorso pubblico per il potenziamento dei centri per l'impiego della sicilia che di recente sono stati chiamati a scegliere la sede di lavoro fra quelle disponibili per ciascuno dei profili messi a concorso adesso parliamo di covid in sicilia in lieve aumento i contagi nell'ultima settimana invece l'89,47 per cento ha completato il ciclo primario di vaccinazione il servizio nella settimana dal 10 al 16 ottobre si registra un ulteriore incremento delle nuove infezioni con un'incidenza di nuovi casi pari a 9.186 più 3,54% con un valore accumulativo di 191-100.000 abitanti. Il tasso di nuovi positivi più elevato rispetto alla media regionale si è registrato nelle province di Messina a seguire Siracusa e Trapani. Le fasce d'età maggiormente a rischio risultano quelle tra i 60 e 69 anni, tra i 70 e 79 anni e tra i 45 e 59 anni. Anche le nuove ospedalizzazioni sono in lieve aumento. Più di metà dei pazienti in ospedale nella settimana di riferimento risultano al sistema non vaccinati. Sono 32 nuovi ricoveri in terapia intensiva registrati in Italia nelle ultime 24 ore, mentre lo stesso giorno di una settimana fa erano stati 40. Negli ultimi sette giorni, dal 13 al 19 ottobre, sono entrate in terapia intensiva Covid 229 persone, in crescita dell'8,5% rispetto alla settimana precedente. Ed è nella sede di via Enrico Medi, sede dell'Ordine dei Medici Chirurghi e Dorontoiatri di Caltanissetta, che ricomincia la formazione con un corso di aggiornamento di ematologia dal titolo L'ematologia incontra il territorio, condivisione dei percorsi diagnostici terapeutici. Due gli incontri in programma, il primo il 22 ottobre, il secondo il 19 novembre. Nelle due giornate verranno affrontate diverse tematiche che riguardano le novità in ambito ematologico, le terapie specialistiche ad esempio, ma si penserà anche al mondo del volontariato e al rapporto medico-paziente. Parliamo adesso della commemorazione dei defunti, della variazione della viabilità in città, soprattutto nella zona Angeli. In vista della commemorazione dei defunti, si preannunciano delle modifiche alla regolamentazione veicolare nella zona Angeli, dove è presente il cimitero e si prevede una maggiore affluenza di cittadini che vi si recano per portare un fiore ai propri cari, che non ci sono più. Dal 30 ottobre al 2 novembre 2022, dalle ore 7 alle ore 18, viene istituito infatti il divieto di sosta con rimozione forzata in ambo i lati in Corso Vittorio Emanuele, da Corso Umberto a Via Red Italia, Largo Badia, Via Paolo Emiliani Giudici, fino a Via Pugliese e Giannone, Via Tuminelli, Via Castello di Pietra Rossa, Via Medaglia d'Oro, Via Angeli. Sospesa inoltre la circolazione veicolare nella zona Angeli, tranne che per i residenti muniti di apposito permesso, eccezione valida anche per gli autobus urbani, mezzi di pronto intervento e di pronto soccorso e veicoli al servizio di persone con disabilità muniti sempre dell'apposito contrassegno. Circolazione sospesa in particolare nella zona ricadente all'interno del perimetro delimitato da Via Giudici, Via Tuminelli, Via Roma, Via Pietra Persia, Via Angeli, Via San Domenico, Via Vasellai, Via Medaglia d'Oro. Senso unico di marcia in Via Lamedeo, da Via Roma a Via Regina Margherita. I veicoli provenienti da Via Stazzone e da Via Cinnirella dovranno obbligatoriamente svoltare a sinistra per Via Lamedeo, verso Via Leggina Margherita. Per gli autobus navetta si prevede una corsia riservata in corso Vittoria Emanuele tra Via Medaglia d'Oro e Piazza Garibaldi, lì dove viene istituito il divieto di sosta con rimozione per permettere agli stessi di percorrere il tratto in senso inverso rispetto all'ordinaria circolazione. Anche nei giorni precedenti, e cioè 28 e 29 ottobre, potrebbe essere sospesa in base alle esigenze della circolazione veicolare, tranne per le autovetture al servizio delle persone con disabilità in Via Angeli, dal Civico 83 al Piazzale Cimitero. Si potrà circolare nel tratto di Via Medaglia d'Oro, compreso tra Corso Vittoria Emanuele e Badia, e l'entrata del parcheggio multipiano, per permettere ai cittadini di posteggiare le auto al suo interno. Saranno individuate delle zone per la sosta delle autovetture al servizio di persone con disabilità, munite di regolare contrassegno. E il tragitto consentito ai taxi, itinerario previsto anche per i residenti per raggiungere le proprie abitazioni, e comunque non potranno sostare dove insistono i divieti. Vietato infine nelle zone interdette alla circolazione veicolare della zona Angeli, il commercio su aree pubbliche è effettuato in forma itinerante con qualsiasi mezzo. Sono oltre 10.000 le richieste di assegnazione del Ciro, ovvero del codice identificativo regionale per le strutture ricettive siciliane, un numero così elevato che ha indotto il Dipartimento del Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana a prorogare di altri due mesi il termine di scadenza per ottenerlo. Così le aziende adesso avranno tempo fino al 31 dicembre 2022. Nella nota è stato dichiarato che è un'operazione che con le nuove istanze sta facendo emergere un sommerso di rallunga superiore alle attese, ma tante sono anche le strutture recettive già classificate e presenti sulla piattaforma Turistat, che seppure inadempieti rispetto all'obbligo di comunicare giornalmente i dati sul movimento turistico ai fini istat, hanno inoltre la richiesta di accreditamento. Il Ciro è stato istituito lo scorso luglio e nasce con l'obiettivo di garantire un'offerta turistica trasparente e di contrastare forme irregolari di ospitalità e anche di tutelare chi fa turismo in modo onesto seguendo le regole. Ci spostiamo adesso ad Enna che si candida come Capitale Italiana della Cultura 2025, atteso tra circa un mese il primo verdetto della Commissione sulle dieci città finaliste. Il mito nel cuore è il claim potente, profondo e viscerale con il quale Enna si è candidata a Capitale Italiana della Cultura 2025, per il quale ha presentato un progetto che è anzitutto una visione di sviluppo condivisa con imprese e associazioni locali e con numerosi altri comuni del centro Sicilia. Un videomapping proiettato sulla facciata del Teatro Garibaldi, un tempo casa comunale, è sintesi perfetta di un progetto ambizioso che si avvia al primo rush finale. È atteso tra un mese esatto il primo verdetto della Commissione, composta da esperti del mondo della cultura, delle arti e del turismo, che decreterà le dieci finaliste tra le quindici candidate. Ieri i cittadini di Enna si sono ritrovati al Teatro Garibaldi per un momento di aggregazione e condivisione voluta dal sindaco Maurizio Di Pietro e dalla soggiunta per presentare a tutti gli ennesi i protagonisti attivi che hanno contribuito con idee e proposte alla realizzazione della candidatura. I dettagli della proposta culturale presentata al MIC, Ministero della Cultura. Enna ha una tradizione culturale antichissima e sono fermamente convinto, dichiara il sindaco, che lo sviluppo economico e sociale della città debba partire dalla cultura, indesa come forza di cambiamento per uno sviluppo aperto a tutti. Fanno parte del Comitato d'Onore della candidatura di Enna a Capitale Italiana della Cultura 2025 il CONI, Delegazione Enna, GAL Rocca di Genere Geopark, Consorzio Ente Autodromo di Pergusa, Soprintendenza di Enna, Diocesi di Piazza Armerina, Fondazione Sicilia, Libero Consorzio di Enna, Università Core, Ente Parco Minerario Floristella Grotta Calda, Parco archeologico di Morgantina, Villa Romana del Casale e i comuni di Agira, Aidone, Calascibetta, Gagliano, Castelferrato, Nicosia, Pietra Persia, Troina, Valguarnera Caropepe e Villa Rosa. Ed è a San Leone che c'è un nuovo progetto per la realizzazione di un nuovo sistema di videosorveglianza per la sicurezza della zona balneare agrigentina. L'Aggiunta Comunale di Agrigento ha approvato un progetto per la realizzazione di un nuovo sistema di videosorveglianza, al fine di rendere più sicura la frazione balneare di San Leone. Il progetto di potenziamento delle misure di sicurezza che interessano il territorio comunale è stato possibile grazie ai fondi messi a disposizione dal Programmo Operativo Complementare Legalità 2014-2020, dopo il protocollo sottoscritto fra il Comune e l'Ufficio Territoriale del Governo. In particolare, l'intervento di 250.000 euro prevede la realizzazione di un sistema di videosorveglianza del porticciolo turistico e del lungomare Falcone-Borsellino, costituito da nuove telecamere posizionate in punti strategici, che consentiranno il monitoraggio di tutta l'area, con un sistema ad alta definizione che consentirà la rilevazione delle targhe. Con questo provvedimento, afferma l'assessore alla Polizia Municipale di Agrigento, Francesco Picarella, vogliamo intensificare ed estendere le attività di controllo delle forze dell'ordine, in un'area particolarmente complessa come il porticciolo turistico ed il lungomare Falcone-Borsellino, dove negli ultimi anni si è potuto rilevare un aumento della microcriminalità e lo spaccio di stupefacenti. Ha fatto tappa anche a Caltanissetta, in piazza Falcone-Borsellino, il camper ambulatorio dell'Associazione Italiana Scompensati Cardiaci, iniziativa che ha visto i risultati già in passato e che è stata riproposta in città anche quest'anno, in collaborazione con Cuore Chiaro, Onlus e con il patrocino dell'Ordine dei Medici Chirurghi Odontoiatri Caltanissetta. Martedì sono state effettuate grazie alla presenza dell'ambulatorio mobile, visite gratuite, allo stesso tempo i cittadini hanno ricevuto informazioni sullo scompenso cardiaco per una giornata dedicata alla prevenzione, ad accogliere gli interessati. c'erano i medici, Salvatore Virzi e il responsabile presidente dell'Associazione Cuore Chiaro Onlus, il dottore Luigi Scarnato, insieme alle assistenti Leandra Scarnato e Roberta Cammarata. E adesso parliamo di San Cataldese, sesta sconfitta in sette gare. Ora i verde e amaranto sono ultimi in classifica con la mariglianese in serie D. Disastrosa prova della San Cataldese sul campo del Real Aversa nel turno infrasettimanale del Gironei di Serie D. I verde e amaranto sono usciti sconfitti dal rettangolo di gioco al termine dei 90 minuti con un parentorio 4 a 0. La sesta battuta d'arresto in sette partite dall'inizio del campionato. La San Cataldese è ultima con appena tre punti all'attivo, insieme alla mariglianese battuta in casa dal Castrovillari. Le reti del Real Aversa sono state messe a segno da Gassama, autore di una doppietta nel primo tempo, Petricciolo a inizio di ripresa e Cavallo nel finale. Domenica la San Cataldese tornerà a giocare tra le mura amiche contro il Santa Maria Cilento, fischio d'inizio alle ore 15. I verde e amaranto hanno assoluta necessità di tornare alla vittoria per tirarsi fuori dalla zona più calda della classifica. Il Santa Maria Cilento arriverà a San Cataldo dopo due vittorie importanti contro a Cireale e la Mezzia, attuale vicecapolista. Avversario tutt'altro che facile, dunque per la squadra allenata da Pietro Infantino. I risultati delle partite della settima giornata. Trapani, la Mezzia 2 a 2, Licata, Sant'Agata 3 a 2, Santa Maria, Cireale 1 a 0, Real Aversa, San Cataldese 4 a 0, San Luca, Cittanova 3 a 1, Mariglianese, Castrovillari 0 a 3, Vibonese, Paternò 3 a 4, Catania, Locri 2 a 0, Ragusa, Canicati 0 a 0. La classifica, Catania 21 punti, La Mezzia 16, Real Aversa 14, Vibonese e Ragusa 13, Santa Maria e Castrovillari 10, Sant'Agata e Locri 9, Acireale, Trapani, Licata e Canicati 8, Paternò 7, San Luca 6, Cittanova 4, Mariglianese e San Cataldese 3. Questa edizione del nostro telegiornale termina qui, vi lascio al meteo e alle informazioni di pubblica utilità. Ben trovati, un aggiornamento con le previsioni per la giornata di venerdì. Come possiamo notare dall'immagine, una vasta circolazione di bassa pressione posizionata sulle isole britanniche che invera impulsi perturbati su tutta l'Europa centro-occidentale e interessando questa volta anche alcune zone del nord. Al centro-sud invece è sempre dominio dell'alta pressione africana. Nel dettaglio la nuvolosità anche compatta al nord, nubi alte sulle regioni centrali, più sole al sud. In sintesi, questa mappa della nostra penisola che ci evidenzia la giornata a tratti nuvolosi al nord con deboli piogge nord-ovest e poi alpi di nord-est. Qualche pioggia anche sull'Appennino Tosco-Emiliano. Altrove invece stabilità, clima asciutto e soprattutto molto mite. Tocchiamo ancora i 25 gradi. Tutti i dettagli, gli approfondimenti scaricando l'app di Trabi Meteo. Servizi di pubblica utilità Farmacie di turno, Caltanissetta Servizio diurno Croce Verde, Viale della Regione Servizio notturno San Pio X, Via Napoleone Colaianni Buona不 Grazie a tutti.